Ieri proprio sono stati distaccati altri 4-5 utenti obbedienti civili ai quali addirittura è stato asportato il contatore fisicamente, materialmente e sarebbero costretti a pagare quanto richiesto da Noveacque indebitamente, secondo noi, per poter riavere l'acqua. Qui siamo di fronte a un'imposizione, cioè tu paghi quello che voglio, che ti chiedo, e io ti rido l'acqua, altrimenti non te la ridò. Sono per adesso 6 le famiglie aretine che hanno subito il distacco dell'acqua da parte di Noveacque. Per questo il comitato presieduto da Gianfranco Morini è di nuovo tornato in procura, accompagnato dagli avvocati Scartoni e Fornaciari ed ha anche esporto denuncia presso i carabinieri. Nuoveacque, considera Morosi, gli utenti che in base all'esito referendario hanno aderito alla campagna di obbedienza civile e si sono autoridotti la tariffa per la percentuale che riguarda la remunerazione del capitale investito, una vicenda annosa che attende la sentenza del Consiglio di Stato che ancora non si è espresso. Intanto il primo ricorso in forma urgente è già stato assegnato ad un giudice e tra poche ore si dovrebbe conoscere se sarà imposto a Nuoveacque di riallacciare il contatore alle famiglie oppure no. Di certo c'è la legge che garantisce il diritto al minimo vitale di accesso all'acqua. Lo stesso presidente di Nuoveacque, che è un rappresentante della parte pubblica di questa società, ci fa specie che si comporti in questo modo, ci ha rifiutato nuovi incontri, anche un mese fa non ci sono state date la possibilità di spiegarsi, di chiedere una moratoria, di rinsistere su questa concessione di una moratoria rispetto a chi contesta delle somme parziali delle bollette e non sono morosi. Ma tanto più essendoci una legge che impone al gestore di garantire un minimo quantitativo vitale, questo deve essere fatto e questo ecco perché siamo dalla magistratura. Lancio un appello al presidente di Nuoveacque e all'amministratore delegato, a tutto il consiglio di amministrazione di questa società, che con ragionevolezza in questo momento, siccome stiamo aspettando questa decisione del giudice, si rivedano la propria posizione, sospendano questo tipo di attività e in questo momento rimettano anche in condizione le famiglie di riavere l'acqua, quelle che hanno distaccato.